Ci si reca al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale nel rispetto delle misure anti-Covid, mascherina e distanziamento. 1192 i comuni interessati, 19 i capoluoghi di cui 6 di regione, Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Trieste. Come si vota? Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può indicare il candidato sindaco o una lista. In entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco, sia alla lista di candidati consiglieri. Vince chi prende più voti. Sopra i 15.000 abitanti si può votare il candidato sindaco, una lista, entrambi. Oppure un candidato sindaco è una lista lui non collegata, il cosiddetto voto disgiunto. Vince chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti ballottaggio il 17 e 18 ottobre. Le preferenze, nei comuni fino a 5.000 abitanti una sola preferenza, fino a due con doppia preferenza di genere sopra i 5.000 abitanti. Regionali in Calabria, una sola scheda, diventa presidente chi ottiene più voti. Supplettive Camera, Siena e Roma Primavalle, vince chi ottiene più voti validi. Via lo scrutinio subito dopo la chiusura delle urne, per l'occasione risultati in tempo reale anche sull'app del Viminale Eligendo. e lunedì, dalle 14.50, lo spoglio in diretta con lo speciale Tg1.